Il Tar di Salerno accoglie la richiesta del Comune di Sapri e dispone la riapertura della sede di Sapri dell'Ufficio del Giudice di Pace. È stata riconosciuta la qualità delle norme mole di lavoro fatto dall'amministrazione comunale per evitare la chiusura dell'ufficio, ha dichiarato il consigliere avvocato Gerardo Bove. Abbiamo operato con serietà ed impegno per garantire ai nostri cittadini il mantenimento di un presidio di giustizia importante anche per l'intero territorio. Nel ricorso presentato dall'avvocato Giancarlo Sorrentino è stato puntualmente ricostruito tutto il percorso, l'attività posta in essere e la legittimità degli atti assunti dall'amministrazione comunale per garantire il personale da distaccare presso l'Ufficio del Giudice di Pace, grazie alla piena disponibilità del solo Comune di Morigerati e della Regione Campania. Siamo molto soddisfatti per un risultato atteso ma difficilissimo, ha dichiarato il sindaco Giuseppe Del Medico. La nostra città e il Golfo di Policastro non meritavano una sottrazione che aveva tanto il sapore di uno scippo consumato ai danni dei cittadini. Adesso attendiamo le disposizioni del Ministero della Giustizia per avviare il ripristino delle attività dell'Ufficio, continua Del Medico. Speriamo che le tante voci che si rialzeranno per ricriminare in occasione del provvedimento di chiusura confermino tutto il loro interesse e la loro disponibilità a sostenere il Comune di Sapri nel buon finanziamento dell'importante presidio di giustizia del Golfo di Policastro.